Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono su un gioco che veramente spacca i culi ragazzi, spacca i culi sul gioco Si chiama Super Mario Bros, sempre per Nintendo Entertainment System o come cazzo si dice per NES Allora, è Super Mario, per chi non conoscesse Super Mario come al solito se ne andasse a fanculo perché significa che non conosce uno dei videogiochi pro creatori della storia dei videogiochi Pro creatori della storia dei videogiochi, che cazzo significa? Oddio che strono, ah allora, io non gioco Super Mario non so da quanti anni, soprattutto questo qua, il primo Super Mario se non ricordo male Spacca i culi sul gioco allora Mamma mia che mostro, questo che cosa faceva? Non ricordo Ah lancia le palline di fuoco, si, ora ricordo, eh grazie al cazzo che ricordo forse perché ho visto Sparo, ah così posso sparare i nemici quindi Ah morite Mori, 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 mori Mamma mia, non ti è bello così Oddio, muoviti Un'altra Che succede se ne prendo due un cazzo? Guadagno solo punti Allora questo è il creatore dei giochi platform Per chi non sapesse i giochi Cosa sono i giochi platform Per chi non riesco a parlare in questi giorni? Per chi non sapesse cosa sono i giochi platform Non conosce, non capisce Sono questi giochi in questo stile così Che sono dei livelli da superare e così via Strano che io non sia ancora morto Eppure l'ho appena scaricato Oddio, 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 mori, 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 mori Ecco Scaricato per dire Perché non sono ancora morto? Non è da me No, no Ma non riesco a prendere la bandiera Porca 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 iva Ecco Ho appena finito il primo livello Wow, che difficoltà Oddio, perché è diventato piccolo di nuovo? Perché è così? Ah Non mi Ah, mo va giù Eh, no, no Mo spacca i culi Mo spacca i culi Ecco qua Se non faccio ridere durante i miei gameplay Perché c'è gente che dice Eh, ma ti non fai ridere Tra l'allero, tra l'allà Ma grazie al cazzo Io non voglio far ridere la gente Durante i miei gameplay Per ora Ma Forse Ci sarà un cambiamento radicale Nel mio canale Aspetta che devo sparare a sto coglione Muori Aspetta che io vado di qua Vaffanculo No Stavo pensando Un cambiamento radicale Nel mio canale E fare la fine di Favij Però Non lo so se voglio fare veramente la fine di Favij Perché È vero Sì, iscritti Ma gli iscritti non fanno una persona Alla fine È questo che ci ho pensato molto Oddio Cosa cazzo è? Cosa cazzo è? Vieni qua Vieni qua Oh no Lezzo proprio Maonna Maonna Perché non ce l'ho fatto? Ui Aspetta Se io faccio così Io faccio così No Qua stava una cosa segreta Mi ricordo Mi ricordo perché ci giocavo Uh Uh Devo cercare di raggiungere Favanculo Ah no Qua era No Però io non voglio spaccare Perché io ora devo fare Favanculo L'ho spaccato Lo stesso Però visto che stiamo No Aspettate Si faceva così Sì Ecco qua Ora ricordo Sì Guardate Salto tutti i livelli Lo trallalì Lo trallalà Questo Questo glitch Non è un glitch Questo trucco Tra virgolette L'ho scoperto Automaticamente Giocando Quando ero più piccolo Così Non sapevo proprio Ah è perché Qua torni giù Oh Oh No Ora torniamo qua Oddio Che culo No Che culo Guardate ora Una cosa che non sapevate Di qua si possono saltare Tutti i livelli Si può andare nella warp zone L'ho scoperto da solo Ragazzi Non sto scherzando Allora warp zone 4 Vediamo che cazzo è Che poi ho saltato pure Un livello bonus All'inizio Oddio Che cazzo di castello è Cioè Non sono mai riuscito A finire nessun gioco Di super mario Quello Che No Che cazzo è No 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 Il cazzo No Cazzo no 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 E mo Oddio Perché se ne vanno giù i coglioni Ma quella è la nuvoletta stronza Quella su mario kart Mi seguiva sempre Nuvoletta stronza di merda Aspettate bimbi Però non vale Dai Mori stronzo Dai Sparca i culi Vai scappa scappa Come se non ci fosse un domani Oh non riesco a saltare Si vabbè uno si però Quanti Quante vite Mi sono rimaste Cazzo Vediamo Dai dai scappa Wow No Che palle No Che cosa Game over No Bene Due giocatori Oddio Che cazzo è due giocatori Come si muove Ah non si può fare Vabbè in sintesi Quindi questo era Super Mario Ho fatto un video Semplicissimo Oggi Anche se sto sbattendo Contro il microfono Perciò sentirete Dei rumori strani Comunque Si ho fatto un video Semplice Oggi Però veloce Perché è notte Durante la registrazione E ora non lo so Quando lo carico E quando lo monto Per giunto Che quali No no Vieni qua Non Oddio Però vi avviso Presto No Non vi avviso presto Quindi io vi ho detto Il mio canale Lo vorrei trasformare In stile Quel coglione Di Favij Perciò non so Se a voi Sta bene o no Lui Eh Dovete dire Nei commenti Chi vuole Scrivere nei commenti Sennò va Andate a fan Oddio Ah è vero Chi vuole scrivere Nei commenti Sennò veramente Andate a fan Curo Poi devo fare la fine Di Favij Come quel coglione O devo continuare Devo essere sempre Me stesso Come volete voi ragazzi Io per voi sto qui Poi vi parlerò Anche di altre cose In altri video Così Ma va a fan culo Di altre cose In altri video Così Vi parlerò E niente ragazzi Oddio Perché sto qua Ricordate di mettere Mi piace Anche se non lo potete fare Giusto La voglia Di schiacciare Di cliccare Ma è questo Le scatole bonus Le scatole Le muri E quindi Ciao a tutti ragazzi Ciao Aspettate che devo salutare A parte scappare Come un coglione Andiamo qua Oddio Mamma mia Spacco i culi Ciao a tutti ragazzi Ciao ciao ciao